ciao a tutti oggi io vi parlo il maiale c'è anche pelle guardate noi chiamavamo il maiale coccante come cominciamo prima riscaldiamo la pentola e noi mettiamo l'acqua canda cegniamo i fornelli quando acqua nella pennelli canda noi mettiamo questo guardate bicarbonato di solio questo noi mettiamo uno ucchialino poi noi mettiamo di maiale guardate anche alla pelle questo buonissimo come coccante quando noi mangiamo noi mettiamo questo nella acqua canda per cinque minuti guardate solo la pelle non tutto solo la pelle per cinque minuti guardate io voglio fare due notando noi lo mangiamo tutti i giorni cos'è meglio mangiare non troppo ciccia non mangi tutti i giorni una volta sentire volo mangiare e facciamo poi cinque minuti la cia così quando cinque minuti passare noi togliamo e tagliamo poco ci vediamo dopo adesso cinque minuti passato vediamo adesso pelle bene noi togliamo chiudiamo i pennelli togliamo fuori poi tagliamo io gli ho cometto di bicarbonato per la pelle di maiale momido è cotto è facile per fare coccante aspetta un momento e tagliamo adesso noi tagliamo l'onorumbano tagliano così così non l'onorumbano tutto tagliare solo pelle fuori ma l'onorumbano così ma tutto lascia poco non l'onorumbano tutto tagliare così guardate non l'onorumbano si fa così guardate anche questo adesso noi mettiamo sale dentro e come massaggio fai così metti dentro poco guardate metti dentro dopo come noi tagliamo prima di sale dentro e poi io metto anche il cano mettiamo tutto massacroci per due minuti adesso noi facciamo questo aceto bianco di ago. Metti dentro. Io penso 7 ucchiai. E poi noi mettiamo bicarbonato. Uno. Io metto questo per pelle di maiale momido. È cotto subito. E dopo mettiamo il maiale la pelle. Metti la pelle giù. Così. Solo la pelle. Noi lasciamo così 10 minuti. Dopo torniamo a vedere. 30 minuti. Ok. Adesso il maiale con pelle. Ho passato 10 minuti. E noi togliamo. Metti su per mettere la forno. Però noi lasciamo così per 30 minuti. Il maiale secchi prima. 30 minuti. Metti la pelle sopra. Così. Noi lasciamo così 30 minuti. E dopo togliamo. Metti la forno. Ok. Adesso passato 30 minuti. Noi mettiamo olio sopra. Sopra solo pelle. metto sopra la pelle. Ok. Adesso noi mettiamo nel forno. Per 30 minuti. E vediamo. Quando la pelle è cotto. Noi togliamo. Adesso il maiale coccante. È pronto. Patati. questo buonissimo. Mangiamo con la salsa e insalata. ciao a tutti. Ci vediamo prossima. Per favore. Metti un like. Grazie. Ciao. Ci vediamo al prossimo prossimo. Sassi. Ciao.